Nostra una nota è comunicata nella prensa che mi ha detto che la ruba è compliant per la quale è FTF, per la quale è parte del combattere contro il lavamento di placi e anche il finanziamento del terrorismo. Il servizio è contento di contribuire nel lavoro necessario, sicuramente, per la quale è stata con la quale è entregata un mozione e tempo per la quale è un'analyse di rischio che il nostro paese accorre per la quale è finanziamento del terrorismo e sicuramente il lavamento di placi e tempo per la quale è un sostegno unanime del Parlamento. E ora iniziamo a parlare di un placer che il ministro di indicare che la quale è analizzata e la quale è un rischio che gli hagi di rischio che la quale è parte di FTF. Mi mi servizio che mi stia molto bene con il signor Cruz, che è il segretario del Strategy Group di Akinaharuba, a indicare che è stato fatto che non ha rubato a forma parte di un blacklist di FATF. E questo è molto bene per il signor Akinaharuba, che è stato dismascarato anche il ministro Eiman, il ministro di demenza, il ministro di Sivinger e anche il ministro di finanza, il signor Edoskin, con la massima occasione da purba tilda e lanza mentira. Bisogna ora e nana con il tempo, prima con il 2009, con il gabinete di Akinaharuba, e il tempo è che aveva un free for all qui in Akinaharuba, con l'agra di Sassi, non aveva un complico di nada con il nostro rivalista preto, che aveva un'cantità di mentira con il signor, che aveva un'occhiavo, 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 allhtia 9,3,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,6,7,6,6,7,6,7,7,6,7,6,7,6,7,9,6,6,6,8,7,6,7,6,7,7,7,7,0,4,7,7,6,7,8,7,7,8,7,7,7,8,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,9, che è legato qui, però ci sono stati aspettati per comprare il fatto che è legato rigoroso qui, e che ci sono stati un po' gobernante del MES che siano scoperto con loro che non sono scoperto. E quindi ci sono stati aspettati che è inaspettabile, e che in pochi anni il FATF lo realizzano le cose che sono scoperto. Grazie a tutti.